Musica Si è tenuto negli scorsi giorni il quarto congresso regionale della Federazione Lavoratori Pubblici. Rinnovate le cariche, l'incontro è stato l'occasione per fare il punto sull'evasione fiscale in Trentino. Sentiamo il servizio. A Trento il congresso Federazione Lavoratori Pubblici a cofine aziende fiscali per il Trentino Alto Adige ha visto una grande partecipazione degli iscritti. Rinnovate le cariche statuarie, i lavori sono stati occasione per un focus sulle recenti novità in tema di fisco regionale con la recente istituzione della direzione regionale Trentino Alto Adige dell'Agenzia delle Entrate che sarà sovraordinata alle due attuali direzioni provinciali di Trento e Bolzano e che dovrà dare un ulteriore impulso alla lotta all'evasione fiscale nonché fornire un'accelerazione alle attività di rimborsi IVA e ai servizi all'utenza. Altra importante novità è rappresentata dalla recente istituzione della direzione regionale e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con sede legale a Bolzano che potrà contribuire a rafforzare ulteriormente la lotta al contrabbando alla contraffazione delle merci e dalla tutela della salute mediante più incisivi controlli doganali sui farmaci di importazione. Nella provincia autonoma di Trento l'evasione fiscale è stimata in 761 milioni di euro in quella di Bolzano in 821 milioni di euro pari al 10% circa del cosiddetto sommerso nazionale tutto ciò nonostante un grande recupero di evasione fiscale realizzato nel 2023 pari a 158 milioni di euro nell'intera regione con un balzo del 30% circa dovuto soprattutto alla rottomazione delle cartelle esattoriali con definizione agevolata e cioè del pagamento dei debiti fiscali senza sanzioni e senza interessi.